Lo sponsor di questo video è Eneba, un nuovo marketplace dove è possibile comprare software, giochi per pc, giochi per console, abbonamenti per playstation, xbox o switch a prezzi scontati. Attualmente sono presenti sul sito almeno 10.000 prodotti digitali e continuano a espandersi. Ed è possibile vedere sul Trustpilot lo score assegnato direttamente dal sito dagli acquirenti che è eccellente e si parla di 4 stelle e mezzo su 5 per oltre 7.500 votazioni. Una cosa molto importante è che hanno un live support service attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e questo per chiarire il fatto che se ci fosse qualsiasi problema con l'acquisto delle key saranno pronti a risolverlo anche di notte per dire. Tra i loro partner c'è gente come City Interactive, Konami e Crytek. Il market ospita vendite con sconti fino al 70% però è possibile avere un piccolo sconto bonus ulteriore inserendo il codice sconto di Air Max e questo aiuterà sicuramente a sostenere il canale. Tutti i link ragazzi li trovate in descrizione. Good morning Youtubers, ciao a tutti ragazzi, torno a una serie Focus sul canale che come sapete porta interviste che possono interessare agli iscritti di questo canale. Questa volta siamo insieme a Prince del CIB, campionato italiano Battlefield, quindi ciao Prince. Noi ci conosciamo già però, ecco presentati ai ragazzi del canale e poi dopo parleremo nello specifico di che cosa fai. Ok, ciao a tutti, io sono Thomas Colombo, il mio nick è Prince. Ho fondato il campionato italiano di Battlefield appunto due anni fa. Nella vita sono un traduttore e tester di videogame. Ho una laurea in filosofia dei linguaggi e della mente e una laurea magistrale in scienze quotidiane. Ok, perfetto. Allora, senza andare per adesso troppo nello specifico, ci dici insomma qualche accenno che cosa è il CIB? Sì, allora, il CIB nasce come idea alla fine dell'agosto del 2017, dopo che EA alla Gamescom annunciò la modalità Incursions, prima volta che è annunciata una modalità specifica per l'eSport. Sapevamo che sarebbe uscita da lì a qualche mese, per cui abbiamo pensato di offrire un ambiente competitivo a tutta la comunità italiana per potersi preparare appunto all'uscita del competitivo ufficiale, non solo dal punto di vista della creazione dei team e dell'abituarsi a una partecipazione settimanale, mensile, ad eventi, su eventi, ma anche da un punto di vista disciplinare. Ok, che poi sappiamo non è andata molto bene la parentesi di Incursion. Purtroppo però, o meglio, l'idea di Incursion era fare un test, perché comunque parlavamo già della fine di Battlefield 1, raccogliendo più feedback possibili per poi implementare questi feedback nella modalità ufficiale di Battlefield con Battlefield 5. Sappiamo che è stata annunciata di nuovo lo scorso marzo, per poi essere cancellata lo scorso agosto, sempre, curiosamente, durante la Gamescom. Beh dai, ci si arrangia con i server privati attualmente, immagino. Sì, speriamo, almeno questo. Non sappiamo se è stata definitivamente cancellata o semplicemente rimasta in sospeso. Quello che sappiamo è che Battlefield non uscirà prima di un anno e mezzo, due anni, quindi, diciamo che il gioco di base dovrebbe essere abbastanza sistemato ora, visto che questa era la mostruzione ufficiale per la cancellazione della modalità competitiva. Il tempo a disposizione, tra qui e il prossimo capitolo, ce n'è, per cui speriamo che possano riprendere lo sviluppo. Perfetto, allora per adesso utilizziamo i server privati, però andando un pochettino più nello specifico ora, quali tipi di tornei create all'interno del CIB, su quali piattaforme e poi concretamente che cosa fa il CIB lato organizzativo? Sì, allora, anzitutto noi operiamo su tutte e tre le piattaforme. Abbiamo iniziato con la PlayStation 4, poi dopo qualche mese ci siamo espansi su Xbox, per poi aprire anche le porte alla sezione PC. Per quanto riguarda la tipologia di eventi, la nostra modalità principale è il 5v5, perché appunto vogliamo fare e-sport a tutti gli effetti, e perché pensiamo che, dando comunque ai modelli che abbiamo visto di Incursions, il 5v5 sarà la modalità scelta su Battlefield, per quanto molti si lamentino di questo fatto. Comunque sia, noi abbiamo un evento principale, che è il campionato, come dice il nome dell'organizzazione, dopodiché ci sono, per quest'anno almeno, prevista anche la Coppa, è prevista la Supercoppa. Questo per quanto riguarda eventi a team. Dopodiché abbiamo un evento molto più for fun, che è il Pandemonium. Pandemonium che si gioca sostanzialmente una volta al mese, ci si iscrive singolarmente, e di che cosa si tratta? Si tratta di una modalità 32 contro 32, classica, conquista, e dove però ci sono delle regole abbastanza simili a quelle utilizzate nel competitive del 5v5. Quindi, perlopiù solo fanteria, molte armi che sono state pandite, molti gadget panditi, eccetera. Questo perché? Perché vogliamo che i giocatori non competitivi possano fare un primo passo verso il competitive, utilizzando una modalità a loro molto nota, perché immagino che la maggior parte dei giocatori che non fanno competitive, comunque prediligano la modalità conquista 32 contro 32, piuttosto che un conquista squadre. Ok, partita la musichetta intanto, ragazzi scusate ma lo sto interistando, lui ha il telefono, sappiatelo questo, questi sono un po' in retroscena. Vai tranquillo, vai tranquillo. Perdonami, perché non è il mio. Tranquillo. Poi abbiamo la Shibarena, che è un misto tra, diciamo, un secondo passo verso il competitive effettivo. Perché? Perché adottiamo la modalità conquista squadra, quindi 5 di 5, però, invece di iscriversi come team, ci si iscrive singolarmente. In questo modo è possibile confrontarsi con tutta la community, soprattutto con i giocatori più forti, imparare da loro, e poi apportare dei contributi al proprio team di appartenenza. Manca un'ultima cosa che abbiamo lanciato proprio due giorni fa, che è il Shib versus, che riprende lo stesso modello dell'arena, però, invece di essere un evento settimanale, praticamente si può giocare tutto il giorno, tutti i giorni. Perché le lobby vengono create tramite un bot, quindi chiunque sia disponibile a giocare in qualsiasi momento, si mette in coda, vengono create partite da 10 giocatori, vengono scelti due capitani e una mappa, dopodiché i capitani scegliono i propri giocatori e si inizia. Fino adesso avete fatto soltanto eventi online o vi è capitato anche di organizzare delle LAN? Allora, come Shib abbiamo solo fatto eventi online, però come ASB, cioè eSport Battlefield, diciamo che Sport Battlefield è l'ente internazionale di riferimento per l'eSport di Battlefield, nato già nel 2013, e di cui il Shib è il primo evento ESB approved, il che vuol dire che abbiamo una partnership speciale con ESB. Io, oltre a essere il fondatore del Shib, sono anche Global Community Manager di ESB. E proprio lo scorso ottobre, a Zurigo, nel weekend dall'11 al 13 ottobre, abbiamo fatto una LAN di Battlefield 1. trovate tutte le foto e video online che vi invito caldamente a vedere, perché quello è il nostro obiettivo, quello è far diventare le LAN comunque uno standard, quantomeno per le fasi finali degli eventi. Quello fu un invitational, perché era un tentativo da parte nostra di far vedere di che cosa siamo capaci. Perfetto. Allora, quello che volevo dirti io, io bene o male ho seguito un pochettino la scena competitiva un po' di tempo fa, seguivo e so che ai tempi di Battlefield 3 e 4 c'era un bel po' di movimento lato competitivo. Questa cosa è andata un po' calando negli anni per quanto riguarda la serie di Battlefield, perché poi in generale è cresciuto su altri titoli il fenomeno competitivo. Quindi sono contento che ci sia qualcuno che offre bene o male la possibilità di entrare in un contesto organizzato, competitivo, per tutti quei ragazzi che hanno voglia poi di mettersi in gioco sotto questo punto di vista. E la domanda qui è, in questo tempo in cui sei con il Cib, che trend hai visto dal punto di vista della partecipazione al mondo e-sport su Battlefield e eventualmente anche parlando delle differenze tra le diverse piattaforme? Sì, quello che dici è vero. Io ho cominciato a giocare competitivamente su Battlefield 3 e giusto per dare un'idea si riusciva addirittura a fare un campionato del mondo tra nazioni, giocando su conquista. Quindi avevamo una quantità di giocatori impressionante. Su Battlefield 4 anche, anche se un po' meno rispetto a Battlefield 3, dopodiché con Battlefield 1, Battlefield 5, effettivamente la quantità di giocatori competitivi è andata un po' calando, però, però, bisogna fare delle precisazioni, perché è andata calando la partecipazione di coloro che già facevano competitive, mentre è andata aumentando la partecipazione di coloro che il competitive non sapeva neanche cosa fosse. E ti dico questo perché quando abbiamo lanciato il Cib, appunto nell'agosto del 2017, la community italiana su PlayStation 4 non sembrava avere molti team attivi, ma quando abbiamo lanciato il campionato abbiamo avuto l'iscrizione di ben 36 team. Ah, quindi è un fenomeno che sta crescendo attualmente. Quello è stato il primo, il primo campionato, dopodiché, appunto, come ho già detto, sono arrivati i team di Xbox e poi i team di PC. Quello che abbiamo visto è che negli ultimi due anni c'è stato un sostanziale aumento a livello globale della nostra community che ad oggi conta nel server Discord più di 1300 giocatori, cifre che non mi sarei mai aspettato due anni fa, onestamente. La differenza più grande è che su PlayStation 4 il numero di giocatori è sempre abbastanza alto, su Xbox sta crescendo moltissimo non solo il numero di giocatori, ma anche la partecipazione effettiva a diversi tipi di eventi, abbiamo anche da poco assunto tra piccolette perché è ovviamente tutto lavoro non pagato perché è basato sulla passione, un community manager per Xbox che sta facendo un lavoro straordinario e stiamo tentando appunto di fare lo stesso identico lavoro anche con la community PC che fino a qualche tempo fa era poco responsiva ma adesso sta aumentando. Sta aumentando anche se con difficoltà, ma abbiamo lanciato il campionato anche per PC con quattro team. Perfetto. Ok, quindi ragazzi, se siete interessati io faccio in modo di lasciare qua sotto tutti i link per... ecco, il Discord penso che sia il canale più grosso in cui parlate con le persone anche quelle nuove che arrivano che vogliono qualche informazione, insomma. Esattamente. La sfida è stata anche questa riuscire a far utilizzare Discord da persone che non sapevano neanche cosa fosse. Eh, magari erano abituati a TS. Ma neanche perché come siamo nati su console era Whatsapp. Ancora oggi molti team si organizzano con Whatsapp anche se noi cerchiamo sempre di fargli vedere le potenzialità di Discord. Perfetto. Allora ragazzi, in descrizione trovate il sito del CIB, la pagina di Facebook, credo che l'abbiate, giusto? La pagina di Facebook. La pagina di Facebook. se volete iscrivervi poi ci sono le varie categorie quindi potete andare se siete su PlayStation 4 su Xbox o su PC a chiedere agli altri player eventualmente anche se non fate parte di un team, no? Possono venire tranquillamente e cercarne uno. Assolutamente. Come detto ci sono eventi che servono a questo scopo a far avvicinare persone che non hanno ancora un team. E ovviamente anche il canale YouTube è fondamentale perché mandiamo tutti i nostri eventi tutte le registrazioni e gli streaming che facciamo vengono tutte caricate lì. Ok. Allora io ti ringrazio intanto chiedere ai ragazzi che stanno guardando questo video se avete delle curiosità comunque scrivete anche nei commenti perché nel caso vi piacesse il discorso competitivo torneremo a parlare ancora magari eh torneremo a fare magari dei altri video anche con dei protagonisti dei team e niente per adesso io ti ringrazio Prince ringrazio io te davvero e spero che questo serva soprattutto smuovere le acque dal punto di vista PC quindi giocatore PC fatevi avanti ok ragazzi per questo video è tutto e noi ci vediamo presto ciao a tutti alla prossima ciao a tutti Grazie per la visione!